Perché aveva una gamba bloccata sotto e non l'avrò ad alzata. E quindi sono stato per quasi 20 minuti con questi bondi di manubri che mi avevano in testa. Sì! E mi era sciulto, meno male che ce l'aveva il caso. Tutti questi pali. Tutti in fronte? Tutti in fronte. Sì, li ho preso tipo per 20 minuti questi pali in fronte. Chiedeva aiuto, pensa, l'unica persona che c'era... Non lo ce l'alzasse? No, non lo ce l'alzasse. C'era un bambino di 3 anni. E io gli ho detto... E' lui! Lui che odia farsi fotografare. E' il bambino di 3 anni. Questo bambino...